Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di un'assicurazione che cambia, nuovi rischi, nuovi ecosistemi, nuovi modelli operativi e ne parliamo con Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire e con Massimo Monacelli, Chief Property and Casualty Officer di Generali Italia. Benvenuti. Bene, questa è una prima puntata che si collega alla settimana all'Insurance Week, che è una settimana di Le Fonti TV dedicata a tutti gli approfondimenti sul settore assicurativo. In questa trasmissione ci siamo posti, di approfondire e di vedere il cambiamento nel settore assicurativo, cioè come sta avvenendo e come si stanno muovendo le compagnie di assicurazione in una situazione che l'emergenza sanitaria e il lockdown prima e poi il distanziamento sociale hanno accelerato verso un cambiamento digitale. Già un cambiamento che esisteva anche prima, che però adesso deve essere affrontato in maniera molto più veloce. Bene, Monacelli, lei cosa ci può raccontare del settore assicurativo, cioè come ha reagito in questo periodo e quali sono le strade che sta seguendo per la ripresa? Buonasera a tutti anche da parte mia. Il settore assicurativo si muove perché il settore assicurativo è uno specchio della società e delle economie nelle quali opera, quindi certamente stiamo vivendo un cambiamento nell'ambito assicurativo profondo per rispondere alle esigenze che stanno profondamente cambiando nel nostro modo di lavorare. Il modello assicurativo a cui Generali si ispira che si identifica nell'essere partner di vita è un modello che tiene conto di diversi fattori di cambiamento nel modo di proporre e di fare assicurazione. Da un modello basato più tradizionalmente sui rischi e sulla risoluzione dei problemi che possono accadere a famiglie, imprese, insomma ai nostri clienti, si passa ad un modello che ha molti fattori innovativi al suo interno e quindi iniziamo a parlare di soluzioni assicurative che si basano intanto sulla prevenzione dei rischi, perché parlare di rischi significa innanzitutto contribuire ad evitare che questi accadano, arrivano nuovi servizi anche non tradizionalmente assicurativi a valore aggiunto che avvicchiscono la nostra value proposition, il tema dell'assistenza che è diventato nel nostro modo di vivere tutti i giorni nella nostra economia è un tema molto rilevante e poi ci sono le componenti assicurative più tradizionali. Per Generali essere partner di vita significa attraversare tutta questa catena del valore, significa metterci dalla parte dei nostri clienti per essere al loro fianco nel costruire un progetto di vita che appunto tenga conto e consideri tutti gli aspetti che sono più rilevanti. Di sicuro ci sono degli abilitanti importanti per questa trasformazione a cominciare dalla digitalizzazione che se dovesse indicare un fattore più importante del periodo di trasformazione che stiamo vivendo, direi che proprio questo abilita delle soluzioni complessivamente diverse e oggi ci consente di essere in un modo nuovo a fianco dei nostri clienti. Proprio la scorsa settimana abbiamo lanciato la nostra nuova soluzione Immagina Adesso che è una piattaforma che integra questi aspetti dei quali poc'anzi parlavo e che quindi consente di costruire intorno ai nostri clienti delle soluzioni che tengano conto in modo modulare dei bisogni dei clienti, della capacità di spesa che ci consente di configurare insieme a loro soluzioni più personalizzate o più standardizzate in funzione di quelle che sono le esigenze dei clienti. Mi consente anche di dire che un modello di assicurazione che cambia in un modo così profondo si accompagna ad un cambiamento anche del ruolo che diventa sempre più fondamentale dei nostri agenti, perché i nostri agenti diventano in assoluto dei consulenti che possono portare valore a queste soluzioni proprio perché costruite al fianco dei nostri clienti e quindi portare la digitalizzazione in agenzia e investire perché i nostri agenti possano interpretare nel modo migliore questo ruolo di consulenza, credo che completi il quadro di un modello assicurativo che sta effettivamente mutando in modo profondo e la nostra posizione da questo punto di vista è pienamente realizzata proprio in questo concetto di partner di vita che ci sembra abbracci tutto questo valore. Infatti partner di vita introduce proprio un concetto di assicurazione completamente nuovo e innovativo rispetto a prima, però anche il fatto che il mercato in questo periodo si sia abituato e sia diventato molto più digitale, anche questo accelera notevolmente il cambiamento all'interno delle assicurazioni. Non c'è dubbio. Per cui tra le altre si sono anche in questo periodo si sono chiesti anche dei rischi, cioè la copertura di rischi che magari prima le assicurazioni non erano così pronte a poter intervenire, adesso invece il mercato ha delle esigenze ben precise e soprattutto quindi questo è anche un aspetto abbastanza innovativo del business assicurativo. Vediamo se ci siamo collegati a Burattino. Riusciamo? Non riusciamo a sentirlo? Lei cosa ne dice Monacelli? Ma allora il tema è ovviamente molto ampio. Io spesso si parla in questi contesti di nuovi bisogni dei nostri clienti. Io non so se si debba parlare di bisogni nuovi o di una percezione di un valore e di un rilievo diverso di tali bisogni. Penso di sicuro ad alcuni temi emergenti come ad esempio quello della salute che è diventato anche di drammatica attualità in relazione all'esperienza purtroppo che stiamo tutti vivendo, ma che si colloca in un contesto di evoluzione dei bisogni sulla salute molto più profondo e radicato nel nostro paese. Penso ai bisogni legati alle tecnologie, quindi tutto quello che viene identificato sul concetto di cyber risk, che non è un bisogno nuovo, in realtà il rischio informatico nasce con l'informatica, però si arricchisce oggi di tutta una serie di nuovi elementi molto dinamici, molto veloci perché vanno insieme all'evoluzione tecnologica che è a sua volta molto veloce. Poi c'è tutto il tema delle catastrofi che di sicuro oggi è un tema sull'agenda, parlo di catastrofi perché sappiamo tutti il tema delle calamità naturali in un paese come l'Italia che è un paese che ha dei rischi idrogeologici denti, un rischio sismico importante, abbiamo certamente un'accelerazione delle calamità naturali legate al mutamento climatico, ma catastrofi può includere anche il tema della pandemia che stiamo vivendo in questo periodo. credo se posso porre sull'agenda un punto di priorità che nessuna singola compagnia di assicurazioni possa risolvere da sola questi problemi, ma che una collaborazione molto stretta tra istituzioni e assicurazioni private oggi diventi una urgenza sull'agenda ancor più che in passato e quindi credo sarà molto importante sedersi intorno a un tavolo e attraverso una collaborazione che abbia la reale volontà di trovare delle soluzioni andare a cogliere questo bisogno, a costruire una rete di protezione sul sistema paese nella quale credo che possa trovare uno spazio anche il tema della pandemia perché nessun assicuratore da solo può assicurare la pandemia, ma in un contesto di collaborazione tra istituzioni e assicurazioni private forse qualche spazio per costruire come dicevo una rete di protezione ci può essere e quindi credo che il nostro ruolo, poi generali in particolare direttamente attraverso la nostra associazione nazionale debba avere un ruolo importante per trovare al più presto delle soluzioni che sono necessarie per dare solidità al nostro sistema paese dal punto di vista assicurativo. Una ricerca di soluzioni che richiede un dialogo anche con le istituzioni. Adesso andiamo in pausa pubblicità e poi riprendiamo questo discorso che è molto interessato. Bene, riprendiamo con Massimo Monaceglie. Si diceva, si parlava prima e si diceva delle assicurazioni che devono avere un dialogo più serrato con le istituzioni anche perché per affrontare questi nuovi rischi catastrofali di sanitari che si sono manifestati in questo periodo di pandemia. E poi ci sono anche tutti i nuovi rischi legati all'utilizzo della tecnologia e questo porta a creare un ecosistema in cui le assicurazioni ne fanno parte e può essere un modello di sviluppo nuovo il fatto di creare questi ecosistemi che possono includere diversi interlocutori. Monacelli. Certamente oggi siamo nelle condizioni di poter sviluppare modelli di servizio ampi per i nostri clienti e attraverso partnership a costruire quelli che vengono definiti appunto degli ecosistemi dove i clienti possono trovare risposta, bisogni assicurativi collegati ad altre tipologie di bisogni e di servizi. Credo che in questo aspetto un ruolo molto importante giochi ancora una volta la tecnologia perché è un abilitante fondamentale. Noi abbiamo investito negli anni e continuiamo a credere molto ad esempio nell'IoT perché la connettività delle cose, la connettività delle cose delle persone abilita un cambiamento di paradigma importante nel settore assicurativo in cui vedo almeno due profili di rilievo. Il primo è che consente al rapporto assicurativo che tradizionalmente è sempre stato uno a uno tra la compagnia di assicurazione e il cliente di aprire le porte proprio attraverso la connessione ad altri partner che possono giocare un ruolo importante nel portare beneficio dei clienti a servizi di assistenza o servizi di altra natura non strettamente assicurativi ma che possono effettivamente ampliare la modalità di interazione tra il cliente e la compagnia modificandone in modo profondo anche l'esperienza di accesso all'assicurazione. L'altro aspetto è che la tecnologia abilita un rovesciamento del modello tipico di interazione che c'è tra la compagnia di assicurazione del cliente che è tradizionalmente un modello in cui il cliente chiede e la compagnia risponde per introdurre dei modelli molto più proattivi in cui noi siamo nelle condizioni di portare attivamente al cliente informazioni, soluzioni, servizi e quindi di far vivere l'assicurazione non solo nei momenti tradizionali in cui si paga un premio oppure c'è un sinistro ma farla vivere in modo quotidiano ancora una volta andando a sostanziare quel concetto di partner di vita che poi significa costruire un progetto di vita insieme. Quindi credo che da questo punto di vista ci sia molto da fare e delle grandi opportunità che possono essere colte e che caratterizzeranno in modo profondo la competizione nel mondo assicurativo dei prossimi anni. Bene, Burattino, adesso siamo collegati, giusto? Ecco, si parlava all'inizio di un nuovo concetto del fare assicurazione, appunto partner di vita che sta adottando adesso Generali ampliando notevolmente i servizi che vengono offerti anche grazie alle possibilità tecnologiche che stanno diventando sempre più sviluppate. Quindi rifacendoci alla prima domanda, lei come vede questa evoluzione assicurativa? Allora, volendo in maniera necessariamente un po' superficiale, mi sentite ora anzitutto? Sì, 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 sentiamo benissimo. Buonasera. Allora, volendo in maniera un po' superficiale magari dividere il mondo delle assicurazioni italiane in due tendenze che osserviamo negli ultimi anni, secondo me c'è una parte delle compagnie che si concentra sul presidiare la linea di demarcazione con il cliente, quindi presidiare, essere più presenti e riuscire a essere più efficaci nel contatto, quindi nell'ottica di riuscire a raggiungere meglio il cliente e più clienti e c'è invece un'altra categoria che invece si propone un disegno addirittura un po' più radicale di cercare di trasformare un po' la cultura assicurativa, cercare di andare a realizzare un cambiamento in quello che è la tradizionale offerta assicurativa e a occupare un ruolo un po' diverso. Provo a spiegarmi, credo che le generali siano un esempio abbastanza importante, forse il principale esempio che abbiamo in Italia di questo secondo approccio. Un po' perché probabilmente è l'unico gruppo assicurativo che è veramente a 360 gradi su tutte quante le offerte assicurative e danni di vita, intermediato, diretto, quindi è un presidio che effettivamente non credo che esista con tanta forza e costanza in altri gruppi assicurativi. E poi perché sicuramente non è l'unica, le generali non sono l'unico, ma sicuramente fa parte di quelle compagnie che stanno cercando effettivamente di realizzare i cambiamenti nella modalità di posizione. Il dottor Monacelli parlava prima di IoT che è una linea di investimento delle generali abbastanza importante. Due anni fa le generali, due o tre anni fa le generali nel mercato di percorso con il mondo salute sicuramente importante e potente. In occasione delle ultime, qualche anno fa, delle ultime eventi, anche questo ci si trova catastrofali, il generale aveva fatto un'iniziativa, anche questa abbastanza forte, sul mercato per gestire tutto quanto quello che era colonnario della catastrofe, non soltanto il semplice risarcimento. Quindi un po' c'è la tendenza culturale a cercare di dire non sono quello che ti ripara il danno, ma magari sono quello che ti aiuta a esternalizzare un problema. Quindi non pensare più alla compagnia assicurativa come soggetto che assicura e si prende in carico un oggetto o in un determinato momento se c'è un problema lo risolva, ma cercare di pensare all'assicurazione appunto come un partner, come un compagno su cui fare affidamento e alleviare anche le responsabilità e le complessità della vita di oggi. Questo è un po' il percorso che secondo me stanno facendo e che mira a un'ambizione, credo, di cambiamento della cultura assicurativa nel Paese. Quindi un cambiamento della cultura assicurativa che però propone un'assicurazione assolutamente molto, un'assicurazione che pone delle, si pone come un soggetto che vuole risolvere una serie di problemi per i propri clienti e quindi molto innovativo da questo punto di vista. Monacelli, lei questo cambiamento culturale vede che è facile all'interno delle assicurazioni oppure comporta una formazione e comunque delle conoscenze diverse? Intanto direi forse che il posizionamento è qualcosa di più di forse nelle condizioni di risolvere dei problemi per i clienti perché noi ci proponiamo, la nostra sfida è veramente quella di costruire progetti di vita insieme ai nostri clienti, persone, famiglie, imprese perché crediamo che il ruolo di un'assicurazione sia un ruolo fondante di costruzione di valore per tutti i nostri clienti e quindi il paradigma si rovescia in questo senso in un modo secondo me certamente più ampio. Certo è un percorso, è un percorso di trasformazione importante, abbiamo parlato prima di tecnologie che abilitano ma non è neanche quello il primo elemento, è un percorso di trasformazione anche culturale che riguarda le nostre persone, che riguarda le persone anche esterne all'azienda con le quali lavoriamo, che riguarda i nostri agenti, quindi tutti insieme stiamo costruendo questo percorso che è appunto la sfida che noi ci proponiamo, quella di essere, non di dichiarare di essere partner di vita delle persone, ma di esserlo in un modo concreto e in un modo reale e credo che la linea anche di offerta che abbiamo lanciato, che ha delle componenti di innovazione molto forte nel modo di proporre soluzioni ai nostri clienti, credo che rappresenti un primo step importante che spiega in modo concreto qual è il percorso che noi vogliamo fare. Il ruolo delle persone evidentemente è fondamentale per chi come noi propone servizi per le persone, naturalmente il capitale umano, il ruolo delle persone è determinante per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi Burattino, quali sono secondo lei le nuove competenze che servono oggi e i nuovi skill che le assicurazioni e le persone che lavorano nel settore assicurativo devono avere? Recentemente è uscito uno studio di McKinsey al fine aprile in cui poneva come obiettivo quello di valutare lo stato delle assicurazioni, loro guardavano al mondo property and casualty, quindi al mondo danni e facevano un riferimento e un confronto rispetto ad altri settori, ad altre industrie mature come l'automotivo, le telecomunicazioni e facevano rilevare come rispetto al tema gestione dei talenti. Questi tre settori mediamente di simile maturità tra di loro ponevano delle tematiche diverse. Prima di tutto partivano dall'osservazione che la produttività del lavoro era aumentata molto di più nel settore delle trento, delle automobili e delle articolazioni e poi ponevano una tematica di ricambio generazionale non ancora avvenuto, almeno in ritardo, se facciamo sempre il confronto tra questi tre settori, in ritardo nell'ambito assicurativo più che negli altri settori. In realtà il tema non è così banale di dire ci sono i nuovi skill, inseriamo i nuovi skill, è un tema anche di gestione della crescita attraverso quelli che sono comunque anche lo sviluppo e l'utilizzo di un mestiere che non è prescindibile. La tecnica assicurativa risulta e rimane fondamentale in questo mestiere e quindi se parliamo dei nuovi skill dall'experience design al data scientist e a tutti quanti questi nuovi profili che sono di enorme interesse per la gran parte dei settori industriali di oggi, la sfida vera è quella di riuscire a ponderli rispetto a quelle che sono tecniche di base, quelle assicurative che a loro volta sono abbastanza di complessa acquisizione. Quindi è una sfida complessa nella quale però c'è potenzialmente un enorme valore e in termini di risultati e anche in termini probabilmente di immagine e di freschezza. È un business che innegabilmente è stato percepito ed è tuttora percepito come poco attraente rispetto ad altri. Anche le evoluzioni che stiamo osservando e secondo me anche i messaggi di chi si pone come le generali in maniera più estesa, come parla il di vita, sono comunque tendenze che cercano di rendere più interessante la fruizione del servizio e il servizio stesso. Ecco, questo Monacelli, secondo lei, nelle competenze delle persone che già ci sono adesso nelle assicurazioni, si possono fondere tra di loro, come dice Burattino, questa nuova sfida di riuscire sia di incrementarle ma anche di fonderle? Oppure c'è bisogno di cambiare anche, di introdurre personale dall'esterno, magari che più specializzato in determinati settori, argomenti? Credo che questi aspetti e queste leve debbano essere visti in un modo complementare. Di sicuro credo sia importante per una compagnia come la nostra che vuole accelerare il percorso verso il futuro, quello di acquisire nuove competenze, perché di sicuro ci sono diversi ambiti nei quali competenze di natura tecnologica, io penso ad esempio noi abbiamo fatto un grande investimento nel corso di questi ultimi anni per avere un team di eccellenza, di data scientist che rappresentano un po' una nuova frontiera nel nostro modo di analizzare i dati e sappiamo che la gestione dei dati è il cuore del nostro mestiere. Quindi nuove competenze sono fondamentali per accelerare il nostro percorso verso il futuro. Ma non è l'unico aspetto, perché credo si debba intanto considerare il fatto che avere nuove competenze non significa necessariamente solo avere nuove persone. I nostri colleghi, i nostri collaboratori hanno bisogno attraverso programmi di formazione mirati di ricevere quella formazione che serve ad interpretare il loro ruolo e il loro mestiere in un contesto che è di profondo mutamento e per questo Generali ha fatto un investimento enorme, sta facendo addirittura su scala mondiale che noi chiamiamo di reskilling, proprio di dotare le nostre persone di nuove competenze che in modo complementare con quelle che già hanno, possano definire dei profili professionali sempre coerenti con il mondo che cambia. E poi c'è un altro aspetto importante dal mio punto di vista che non viene mai citato abbastanza, che è quello nel tessuto organizzativo delle aziende e in particolar modo nella nostra di costruire, perché stiamo facendo un grande investimento su questo, un ambiente che sia veramente diverso e inclusivo. Il tema della diversità viene ancora trattato talora in un modo un po' laterale rispetto alle priorità strategiche delle aziende, per noi è un asset fondamentale sul quale noi dobbiamo investire. Avere un ambiente diverso all'interno significa rispecchiare in modo molto più coerente la società nella quale viviamo e questo, se è vero quello che dicevo in apertura, è che la compagnia di assicurazione cambia perché è uno specchio della società in cui opera, diventa un elemento strategico di grande rilievo. Quindi credo che tutti questi elementi, concordo che è un argomento molto complesso e molto ampio, tutti questi elementi debbano concorrere per avere una strategia costruita bene e per fare veramente delle persone un po' la sfida del futuro, perché credo che la competizione si giochi molto su questo terreno. Quindi Burattino, questo cambiamento culturale di cui si parlava prima ha tantissimi aspetti che non riguardano esclusivamente le persone, ma anche l'organizzazione, anche proprio un modo di concepire il lavoro diverso. credo che sia un periodo effettivamente molto creativo nel settore assicurativo in questo momento. Cioè ci sono tanti esempi di cose nuove che accadono e anche tante risposte da dare. Sentivo prima, mentre parlava il dottor Monacelli, il discorso di nuovi rischi e nuovi bisogni, da rischi nuovi che sono nati, alcuni che si sono evoluti, altri che sono diventati più problematici e altri per le quali abbiamo risposte nuove. Abbiamo detto prima che sono cambiate le risposte, però voglio dire, quello che guardiamo in giro, se facciamo alcuni esempi solo negli ultimi sei mesi, se faccio la somma degli articoli in cui ho letto proposizioni nuove, vedo tanti esempi carini. C'è Ikea che decide di fare con Swiss Re un prodotto assicurativo sui loro acquisti, c'è Zurich che immagina di fare le polizze long-term care come gruppi di acquisto solidale, ci sono i Lloyds che ragionano per assicurazioni sia per proprietari che per locatori di Airbnb, ci sono tutte quante modelli di gestione assicurativa che seguono e innovano le stesse innovazioni che avvengono sugli altri mercati. A me la cosa che piace spesso dire è che questa effettivamente è una fase molto, fra virgolette, industriale del mercato assicurativo, cioè è una fase in cui sta lavorando secondo me tantissimo la componente del lavoro assicurativo che si occupa di creare e immaginare prodotti e servizi diversi ed è molto interessante, secondo me è un momento di viracità molto interessante. Quindi Molacelli possiamo concludere questa nostra puntata di oggi dicendo che questo è un periodo di evoluzione anche molto creativa, industriale e creativa nel mondo assicurativo. Non c'è dubbio, io credo proprio attraverso i punti che abbiamo toccato anche in questa conversazione oggi che effettivamente siamo di fronte ad un momento di cambiamento profondo, il mercato assicurativo sta proponendo le sue soluzioni, noi già da diversi anni abbiamo avviato un percorso di profonda trasformazione che oggi ci porta ad essere credo leader dal punto di vista dell'innovazione magari di più di quello che potevamo essere qualche anno fa. Quindi è un percorso che stiamo facendo, la sfida ce l'abbiamo davanti, credo anche che sia un mercato oggi molto più competitivo rispetto al passato e quindi la capacità di agire tutte queste leve di cambiamento e di innovazione in un modo vincente poi la fine determinerà anche il successo sul mercato nei prossimi anni. Tenendo conto che questo nostro è un paese che ha un grandissimo bisogno di assicurazione perché sappiamo che c'è ancora tanto spazio da coprire, quindi non è solo una competizione volta a conquistare clienti che già oggi sono assicurati magari da altri competitor, ma anche a creare le condizioni per allargare sempre di più il numero di persone che sono assicurate, il numero di imprese che sono assicurate e che sono assicurate bene, perché l'assicurazione è un pilastro fondante del sistema paese, dell'economia e della società e quindi credo sia molto importante avere anche questa ambizione e questa aspirazione di fare sempre di più del nostro mestiere, un mestiere a servizio dei nostri clienti. Bene, direi che questo è un periodo di grande trasformazione, quindi una trasformazione creativa, una trasformazione che porta, che appunto, che dà molta spinta anche e soprattutto con delle opportunità che vanno colte. Siamo arrivati al termine della nostra puntata, ringrazio molto Marco Burattino, Italy Sales Director di Guidewire e Massimo Monacelli, Chief Property e Casualty Officer di Generale Italia e arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance.